Adesso facciamo l'ultimo pezzo che arriva... Come siete ovvi, ogni volta che dico l'ultimo pezzo ci serve no. E' meglio che sì, eh? Dico qualcosa. Ma sto cittadino? Il pezzo che stiamo per fare invece è finito poi in una colonna sonora di un trio di comici milanesi, Aldo Giovanni Giacomo, con un film di un bel po' di anni fa, più di 25 anni fa ormai. E questo pezzo si intitola Mamma Ma Hey. Alzo il stereo a palla per non pensare Alzo così tanto da farmi mare Dimenticando tutto quello che so Tutto quello che so Rotolo e imbalzo tra l'inferno e il cielo Tra demoni privati e santi extravangelo Perdendo terreno ma il piatto è quello che Prega un poco per me Partecipo al gioco e non sape fare Si vince o si perde ma voglio giocare Mamma Ma Hey Prega per me Il mondo va più veloce di me Mamma Ma Hey Prega per me Il mondo va più veloce di me Contro il sterzo spando e vado di fuori Cercando di seguire piloti migliori Ma è un po' di cucire un strappo e non so se mi va Non lo so se mi va Però ogni partita è un gioco da fare Che vinca o che perde io voglio provare Mamma, mamma e prega perché il mondo va più veloce di me Mamma, mamma e prega perché il mondo va più veloce di me Mamma, mamma e prega perché il mondo va più veloce di me Mamma, mamma e prega perché il mondo va più veloce di me Mamma, mamma e prega perché il mondo va più veloce di me Un po' di entusiasmo sulle vostre mani Mamma, mamma e prega perché il mondo va più veloce di me E anche questo organico Contiglio, non ho piaciuto, ci piace quando contiglio Grazie a tutti Un po' di entusiasmo sulle vostre mani Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Un ringraziamento ai Corriere e a tutte le donne d'Italia e quelle di Milano Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti